ciao e bentornati sul canale oggi vi faccio vedere un trucchetto semplicissimo molto molto efficace per far ritornare i nostri asciugamani belli morbidi quasi allo stato iniziale come questo che è pochissimo tempo potete vedere appunto che è molto spesso e al tatto è molto morbido a differenza di questo che non so se riesco a farvelo vedere è ormai quasi rinsecchito e un po ruvido un po tanto ruvido al tatto se anche voi avete degli asciugamani alla quale volete ridare un po di morbidezza e farli ritornare allo stato quasi iniziale questo è il procedimento che dovete fare in una bacinella mettete 8 litri d'acqua calda aggiungiamo un bicchiere di aceto di vino 50 g di sale fino da cucina questo serve per ravvivare i colori degli asciugamani ma va bene anche per gli asciugamani bianche e infine aggiungiamo 30 g di bicarbonato di sodio mescoliamo così facciamo fare la reazione facciamo amalgamare tutte le cose che abbiamo messo nell'acqua dopodiché andiamo aggiungere gli asciugamani ovviamente se fate più asciugamani e avete bisogno di più acqua aggiungete cioè raddoppiate le dosi comunque vi lascio tutte le dosi qua sotto nell'info box mettete gli asciugamani a bagno per quattro ore e poi potete procedere passate le quattro ore quindi magari fate la notte le lasciate una notte a riposare e il giorno dopo le lavate come di consueto ovviamente se le dovete rilavare in lavatrice evitate l'ammorbidente io le ho lavate a mano messo un pochino di detersivo sono andata a sciacquarle e questo è il risultato per finire per rialzare la trama sono andata a spazzolare tutte le asciugamani in modo da appunto rialzare le fibre scusate se il termine non è corretto ma spero che insomma le immagini ridiano giustizia le mie parole non so se riesco a far vedere vedete come si sono alzata trama il risultato è strepitoso potete spero si intuisca come sono ritornate morbide hanno un loro vigore ovviamente non tornano come nuove ma sicuramente molto molto morbide al tatto e questo appunto il risultato sulle due paia che ho provato io spero che il risultato vi piaccia se questo tutorial vi è piaciuto lasciatemi un commento se non siete iscritti vi fa piacere iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao